I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno posto agli arresti domiciliari nove persone. Si tratta del direttore della filiale di una banca di rilievo nazionale e i loro funzionari. Le ipotesi di reato, formulate dagli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria, coordinati dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, vanno dalla truffa al falso, al riciclaggio e all'autoriciclaggio, una vera e propria associazione a delinquere il cui unico scopo era quello di frodare l'istituto di credito attraverso l'erogazione di finanziamenti che una volta elargiti venivano restituiti soltanto in minima parte. Il sistema escogitato sfruttava dall'interno le maglie larghe delle istruttorie per il contratto di durata credito al consumo che nel caso di specie portava alla concessione del prestito nell'arco di 24 ore. Ben definiti i compiti dei membri dell'organizzazione, nell'ambito della quale il direttore della filiale e i due funzionari con lui in servizio predisponevano il carteggio necessario per autorizzare l'accreditamento delle somme, con tanto di buste paga e dichiarazioni di redditi false attestanti fittizi rapporti di lavoro. Altri cinque degli arrestati invece avevano il compito di reclutare gli pseudo clienti, persone disposte a presentarsi allo sportello per aprire il conto corrente e richiedere il prestito che venivano assistite passo dopo passo nell'iter istruttorio e alle quali erano forniti i documenti necessari per accedere ai finanziamenti. La gran parte dei formali beneficiari dei prestiti venivano proprio dai comuni di residenza dei cinque incaricati di intercettarli, Salerno e altri centri della provincia, Eboli, Battipaglia, Monte Corvino, Pugliano e addirittura Castelnuovo Cilento, distante 60 chilometri dalla filiale di Bellizzi, base dell'organizzazione. Per non far partire subito i controlli venivano adottati alcuni semplici accorgimenti come quello di lasciare sul conto almeno all'inizio una giacenza minima con cui pagare regolarmente le prime rate del rimborso. Dopo alcuni mesi, però, è arrivata una segnalazione di anomalie direttamente dalla direzione centrale dell'istituto. Il responsabile della filiale si è trovato costretto dunque, suo malgrado, a denunciare alla stazione dell'arma la probabile truffa, di cui egli stesso era in realtà uno dei principali artefici. Nel corso delle successive indagini, i militari delle Fiamme Gialle hanno così ricostruito che a fronte di una novantina di finanziamenti concessi per un'erogazione complessiva di oltre 800 mila euro. Alla banca sono state rimborsate rate per neanche un decimo, meno di 80 mila euro. Considerato che agli pseudo clienti veniva lasciata grosso modo la metà delle somme, l'organizzazione ha potuto così incassare nel brevissimo arco temporale di tre mesi profitti illeciti nell'ordine di 350 mila euro. Nella stessa giornata, infine, sempre i finanzieri di Salerno hanno proceduto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di liquidità per circa 73 mila euro nella disponibilità di tre degli indagati, nei cui confronti sono formulate anche le accuse di riciclaggio e autoriciclaggio.